Salve a tutti! In questa video lezione del corso online per farmer scientist parleremo della specie aliena invasiva Miriophyllum aquaticum. Questa specie viene anche comunemente chiamata millefoglio acquatico americano. È infatti una specie originaria del Sud America, dove è presente sia nelle aree temperate che in quelle tropicali. In Europa rappresenta una specie di interesse unionale, cioè una specie inserita nell'elenco di specie aliena invasive del Regolamento 1143 del 2014, che come abbiamo visto nella lezione introduttiva sulla normativa, include tutte quelle specie la cui introduzione ha un impatto significativo su biodiversità ed ecosistemi. Questa specie è stata introdotta deliberatamente per l'utilizzo a scopo ornamentale in giardini acquatici e in acquari. La sua diffusione nei ambienti naturali può essere determinata sia da immissione volontaria, attraverso anche lo scarico delle acque derivanti dalla pulizia degli acquari, il trasporto accidentale di frammenti di pianta tramite l'imbarcazione o macchinari per lo sfalcio tramite uccelli acquatici e la corrente acquatica. La sua crescita è molto veloce e, fuori appunto dalla sua areale di origine, si propaga solo per moltiplicazione vegetativa, cioè tramite stoloni e per la frammentazione del fusto che facilmente radica all'altezza dei nodi. In Italia è stato segnato per la prima volta nel 1993 in Lazio e Campania. È attualmente presente in altre regioni italiane, alcune delle quali confinanti con l'Umbria, ad esempio Marche è Toscana, Emilia Romagna e quindi potenzialmente può fare il suo ingresso nella nostra regione. I caratteri utili al suo riconoscimento sono, innanzitutto si tratta di una pianta acquatica con fusti emergenti, con pochi rami eretti che somigliano a, come potete vedere in figura, piccoli alberi di Natale. Le foglie, sia quelle sommerse che quelle emerse, sono di colore verde chiaro e sono disposti in vercilli di 5 o 6 fusti verdi. Nella parte sommersa il fusto è ricco di radici e quindi ha i nodi forma dei fusti eretti che si allungano oltre i 30 centimetri sulla superficie dell'acqua. Questa specie purtroppo si può confondere con un'altra specie dello stesso genere, Miriophyllum e in particolare il Miriophyllum spiccatum che vedete qui in figura. Quest'ultima specie è nativa in Italia ma si può riconoscere attraverso le colorazioni dei fusti che sono, come potete vedere, Brunorossastri e dal numero di fogli pervercillo che non sono mai più di 4. Purtroppo la nostra specie aliena invasiva, il Miriophyllum aquatico, può essere confuso anche con un'altra specie del genere Ceratophillum, come vedete nella figura in alto a destra, da cui però si differenzia per la struttura delle foglie. Infatti le foglie del Ceratophillum in realtà non sono pennate ma sono profondamente lobate. I principali impatti economici, socio-economici di questa specie riguardano principalmente i disagi che può creare al passaggio delle imbarcazioni e costituire quindi un impedimento alle attività di pesca e rappresentano anche un rischio per la sicurezza nella pratica dello sport acquatico. Per quanto riguarda l'agricoltura, i suoi densi popolamenti possono rallentare e ostacolare il flusso dell'acqua nei calari irrigui e possono favorire l'esondazione. Per quanto riguarda la biodiversità, questa specie è molto competitiva ed ostacola lo sviluppo delle piante acquatiche native. Altera significativamente le caratteristiche chimiche e fisiche degli ecosistemi che invade con una riduzione della luminosità, il consumo di ossigeno, occupazione di tutto lo spazio disponibile. Quindi le comunità native degli altri organismi, sia di piante che di alghe che di invertebrati e pesci, si trovano a trovare in condizioni che non ne permettono la crescita ottimale, determinando un generale impoverimento della biodiversità. Per quanto riguarda la salute umana, i suoi densi tappeti costituiscono un habitat privilegiato per ospitare uova e larve di zanzara, causando quindi dei danni indiretti alla salute umana. Con questo concludo, vi do appuntamento alla prossima video-lezione e vi ringrazio per l'attenzione.